Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, allora non è stata poi tutta interlocutoria questa quindicesima giornata come io pensavo, anche se è vero che sulla carta la partita a Reggio Emilia del Napoli era quella più complicata per esempio rispetto ad Atalanta, Inter e Milan, beh Atalanta, Inter e Milan hanno vinto tutte e tre in scioltezza figuratevi il Milan a Genova, figuratevi l'Inter con lo Spezia e figuratevi l'Atalanta, diciamo che a un certo punto io pensavo che anche il Napoli, c'ero passato anche io a Reggio Emilia potesse anche perché magari il Sassuolo ebro del 3 a 1 a San Siro magari non, pensavo io che difficilmente sarebbe riuscito a replicare la stessa prestazione, infatti è andato sotto 2 a 0, però poi il Sassuolo ha avuto il merito di andare a riprenderla questa partita, non è giusto dire che abbia rischiato di vincere perché il fallo di Berardi che poi ha portato al 3 a 2 giustamente annullato dall'arbitro era effettivamente falloso, però insomma direi che nello spazio di 3-4 giornate allora ne ha recuperato un bel numero di punti, sia sul sul Milan e sia sul Napoli perché adesso siamo praticamente tutti Napoli 36, Leggo Milan 35, Inter 34, diciamo 3 squadre nello spazio di 2 punti, c'è anche l'Atalanta che ci sta sempre alla Calcania che abbiamo distanziato e che ha 31 e insomma per molti queste sono già le 4 che andranno in Champions, può essere perché effettivamente si sta scavando un solco al di là della facile e prevedibile vittoria della Juventus contro la Salernitana, però diciamo che la Roma, e non è positivo quello che è successo, la Roma ha perso a Bologna, la Roma di Murigno non è mai bella sta cosa qua, io dico sempre perché adesso noi sabato troveremo una Roma, non dico all'ultima spiaggia, ma sapete che Murigno poi è bravissimo tra l'altro, ha usato anche due paroline al veleno su Zaniolo, segno che continua a avere con la squadra giallorossa, insomma un rapporto un po' contraddittorio che non è da lui, io non lo riconosco molto il Murigno giallorosso rispetto al nostro Murigno, ve lo dico, perché continua comunque ad avere problemi con la squadra, tra l'altro la Roma che ha perso anche lì, sono diffidati, magari è stata esagerata l'ammunizione di Abram, però giustissima quella di Caruso, anche questi sono diffidati, si vanno a far ammonire, quindi sarà una Roma sicuramente rabberciata quella che affronterà l'Inter, ragazzi però non sottovalutiamo perché io la vedo come la partita più difficile, poi invece avremo il Cagliari, ma non andiamo troppo in là, la prossima giornata e non dobbiamo nasconderci, c'è Napoli e Atalanta, quindi si affrontano in pratica la prima e la quarta, è vero, a Napoli, al Diego Armando Maradona, poi Roma-Inter, perché comunque la Roma è la quinta forza del campionato, difficile, trasferta, difficile, anche perché a me pare di ricordare anche con Conte, a Roma non riusciamo, mentre a San Siro vinciamo, io ho dei ricordi a Roma di partite in pugno e che ogni volta non riusciamo a vincere, c'è anche l'anno scorso, ovviamente lo scudetto, partite in pugno non siamo riusciti a portarla a casa, quindi attenzione perché è prevedibile che adesso la Roma, ovviamente in questi giorni, Muridio, cercherà di compattare l'ambiente e cercheranno di fare contro l'Inter la partita della vita, per questa è una giornata, la prossima lo dico subito, adesso lo dico, se il Milan dovesse andare solitario prima in classifica, perché il Napoli non vince con l'Atalanta e noi non vinciamo a Roma, spero di non perdere, ci può stare, c'è qualcosa che ci può stare, tra l'altro a me di andare primo adesso, ve l'ho detto tante volte, non mi piacerebbe neanche, per me è giusto che in questo momento l'Inter trovi la sua concentrazione e le motivazioni di seguire qualcun altro, come ho sempre detto il distacco deve essere minimo, è più minimo di 1-2 punti quando eravamo a 7, naturalmente dovevamo stare più attenti, anche se il campionato era lunghissimo già allora, adesso ragazzi c'è onestamente un punto o due punti, anche se dovessero diventare 3 o 4 non è che cambiano la vita, anche perché, e così parliamo dell'Inter, ragazzi ho la percezione di un Inter che finalmente ha raccolto questa benedetta terza vittoria consecutiva in campionato, ancora non ha preso gol, è il terzo 2-0 di fila, perché c'è stato lo Shakhtar, poi c'è stato Venezia e c'è stato il 2-0 lo Spezia, quindi 3 partite senza prendere gol, ma soprattutto togliamo lo Shakhtar un attimo dal conteggio, sapete che il conteggio delle 3 partite di striscia di filotto in campionato si era restato nel derby, adesso abbiamo ripreso, quindi eliminiamo un attimo lo Shakhtar, perché a me interessa la striscia in campionato, per vedere se sei continuo, e insomma battendo Napoli, Venezia e Spezia ne abbiamo finalmente per la prima volta in stagione messe in fila 3, certo adesso sarebbe bello andare a vincere Ancarova, poi vincere col Cagliari e replicare in questo modo la striscia di Conte dell'anno scorso, perché Antonio Conte l'anno scorso di questi periodi ne vinse 8 di fila, 8 di fila, prima di essere sconfitto il 6 gennaio l'Epifania della Sampdoria 2-1, poi ne ha rivinte altre 11 e buonanotte a tutti, quindi adesso non è determinante andare prima in classifica, essere noi campioni d'inverno non conta adesso, la verità è che comunque poi vedremo le pagelle nel prossimo video editoriale, ragazzi, comunque quello che vi voglio dire è che è stata una partita in assoluto contro la Lodellita, come al solito ci siamo mangiati una valanga di gol, una valanga di gol, sono particolarmente contento, un gol per tempo, Lautaro, bello il suo colpo di tacco per Gagliardini, Gagliardini che me l'ha massacrato sempre, vorrei dirvi che comunque questo è il quindicesimo gol da quando all'Inter, essendo un centrocampista che non gioca molto, non mi sembra che sia un pochi 15 gol, e quindi sono molto contento per Gagliardini perché le rotazioni vanno bene, abbiamo bisogno, ripeto, di che tutti si sentano parte del progetto, e poi devo dire che Chior, che aveva tra l'altro salvato una cosa incredibile nel primo tempo su Correa, Correa che a sua volta ha sfortunato perché ha preso la traversa e ha visto Chior praticamente buttargli fuori dalla porta un gol già fatto, Chior è stato proprio quello che su Lautaro a un certo punto impatta con la mano, sono rigori come sapete che io vedo sempre, questo regolamento, figurate, gol di Lautaro 2-0, adesso ci sarà la polemica che siccome l'Inter adesso ha avuto 8 rigori, il Milan l'anno scorso ha avuto i 20, adesso preparatevi a sentirci milanisti che dicono che quest'anno quelli dei rigori siete voi, dubito che noi si riesca ad arrivare a 20, perché l'anno scorso il Milan ha avuto i 20, 20 e comunque non abbiamo vinto, non hanno comunque vinto Scudetto, Scudetto abbiamo vinto noi, però è in dubbio insomma che tanto Lautaro l'ha segnato ancora come a Venezia, proprio pochi giorni fa ha rissegnato ancora sul rigore, quindi adesso è il suo ottavo gol, ha superato Dzeko, possiamo dire che è il capo cannoniere di tappa dell'Inter, ripeto, poi continua a dire, Lautaro era importante che segnasse, porca miseria, il rigore nel derby più che questi. Cialanoglu bravo, molto bravo, per due volte Provedegli ha detto di no, una cosa pazzesca tra l'altro, Dunfris non male è andato al gol, sapete che avevamo paura di Dunfris, ma devo dire che stasera mi pare che tutta la squadra sia stata assolutamente al di sopra della sufficienza, di buono c'è che abbiamo perso bastoni proprio poco prima, ma D'Ambrosio è andato bene, ha giocato bene, ma D'Ambrosio ormai mi sembra piuttosto affidabile, mi sembra che tutto sommato anche quelli che sono entrati, Davidal che è andato vicino, anche lui al gol anche Sanchez ci ha provato nella fine, insomma ragazzi quando le cose vanno bene, anche Gagliardini ci ha riprovato, corre a doppio, però bisogna capire quanto sia, per quella che è la forza dell'Inter, quanto possa essere esemplificativa questa partita, ragazzi lo Spezia è in un, credo che abbia la peggior difesa d'Europa, se non sbaglio quest'anno lo Spezia, quindi non è il caso, c'è Genoa-Milan 0-3, Inter, Spezia 2-0 e l'Atalanta che straborda con Venezia sono risultati che sono ampiamente previsti, ripeto l'unica cosa è il Sassuolo che è andato a riprendere il Napoli e ci ha consentito di accorciare ulteriormente la classifica, vi ricordo allora il live chat, comincio già a ricordarvelo adesso, venerdì direi intorno alle 18.45, 19, poi vediamo, insomma c'è tempo ma intanto ve l'anticipo, vi saluto naturalmente, viva l'Inter, ciao e finalmente tre vittorie consecutive in campionato, ora Roma è dura ma cerchiamo di proseguire la nostra striscia. Ciao!